Musica Buonasera a tutti i presenti e benvenuti a questa serata inaugurale della tre giorni di festa di Cronaca di Rieti che festeggia il suo primo compleanno, compie infatti un anno di vita ma l'occasione è buona anche per dare il giusto rilievo la giusta importanza a un altro traguardo importante che abbiamo raggiunto e cioè la concessione ministeriale per ciò che riguarda Sabinia TV del canale regionale 818 del digitale terrestre che ci garantirà finalmente la messa in onda 24 ore su 24 dunque un anno, un anno di vita per Cronaca di Rieti è passato, è passato molto velocemente nel frattempo ci siamo presentati circa 12 mesi fa come il giornale che avrebbe detto, scritto su eventi, fatti, situazioni su cui altri giornali invece tacevano siamo ben presto poi passati da quello che era uno slogan ai fatti e infatti insomma nel corso del tempo di questi mesi ci siamo accorti di aver avuto un seguito importante di essere stati apprezzati per la nostra dirompenza, il nostro coraggio di dire talvolta giudicati insomma tacciati più che altro di aver seguito deliberatamente una linea editoriale diametralmente opposta rispetto a quella che era la linea politica del governo cittadino in realtà così non è, così non è stato perché per noi che svolgiamo il nostro lavoro con tanta passione ed edizione viene prima di tutto la libertà di informazione, la pluralità delle voci e il diritto di Cronaca è ovvio che chi è il governo è più esposto e si pone quindi nelle condizioni di agire, di scegliere e quindi di operare bene o male sottoponendosi dunque a quello che è il giudizio dell'opinione pubblica del resto ci sarebbe poco da criticare rispetto alla minoranza che tra l'altro in questa amministrazione comunale sindaco è anche abbastanza all'acqua di rose ed eccoci che in realtà abbiamo tenuto oggi a inaugurare questo evento, questa tre giorni proprio essendo onorati dalla presenza del primo cittadino Simone Petrangeli che quindi ringraziamo per aver dato la propria disponibilità e che vado subito a salutare, buonasera e benvenuto Buonasera, grazie a voi dell'invito E un benvenuto anche a Fulvio Iampieri, Rete Zero, partner importante con cui abbiamo instaurato già da tempo una collaborazione una sinergia importante che darà nel tempo ulteriori importanti frutti, Fulvio Assolutamente, il nostro stile ben noto, Rete Zero dar visibilità a ciò che viene azzerato spesso dai media, quelli ufficiali e parlare di anima, insomma ecco cercando un po' di entrare in una logica che sia costruttiva il nostro concetto è mettere in evidenza ciò che è non per distrugge ma per creare, per avere spazi di dialogo Noi in effetti oggi ringraziamo il sindaco di Rieti, Simone Perangeli che tiene a battesimo questo programma perché si parla di un nuovo programma, mi pare di aver capito Un nuovo programma, in particolare oggi uno per tutti quindi un faccia a faccia vero e proprio tra il sindaco e i giornalisti della redazione di Sabinia TV, Rete Zero e Cronaca di Rieti Allora, inizio io, iniziamo questo faccia a faccia e poi darò la parola di volta in volta a chi vorrà intervenire magari dall'ultima notizia a quella più fresca amministrazione comunale un po' in difficoltà dopo le dimissioni dell'assessore Degni, poi l'assessore Cecilia adesso direttamente da Madrid sono arrivate le dimissioni dell'assessore alle culture Diego Di Paolo, ultimamente particolarmente contestato da parte della minoranza per quello che è stato dichiarato un assenteismo un po' esagerato queste dimissioni erano un po' nell'aria? Beh sì, assolutamente sì, innanzitutto insomma in un'amministrazione le persone contano ma contano soprattutto i progetti e i programmi che si portano avanti nel caso di Marcello Degni, insomma la sua presenza nell'amministrazione era un lusso per noi perché insomma come era giusto è andato a ricoprire incarichi più importanti però per un anno e mezzo ci ha permesso di superare le forche caudine del giudizio della Corte dei Conti sul nostro piano di rientro e quindi in qualche modo ha fatto il suo compito al meglio perché ci ha permesso l'approvazione del piano di rientro che in qualche modo ci ha salvato e ci sta salvando dal commissaramento e dal dissesto Diego Di Paolo ha fatto un lavoro egregio in questi due anni e mezzo è evidente che gli impegni professionali non gli permettevano più di coniugare appunto il lavoro e la presenza all'interno dell'amministrazione e quindi credo che con grande stile ha comunicato che a fine 2014 rimetterà il mandato nelle mie mani e poi cosa accadrà? Beh, dopo accadrà che insomma ha già in mente un eventuale sostituto? Per fare la ruttura al turismo come è probabile che ci sia un nuovo assessore all'urbanistica è chiaro che dopo due anni e mezzo è anche il momento giusto per resettare la squadra di governo e fare in modo che si possano superare i problemi che ci sono stati e in qualche modo migliorare e rendere più efficiente il lavoro di squadra quindi insomma le dimissioni sono conseguenza spesso come nel nostro caso anche di scelte personali che poco hanno a che vedere con la politica e con le dinamiche amministrative e le tre dimissioni insomma dei tre assessori che hanno deciso appunto di abbandonare l'attività amministrativa in questo comune che sono appunto Marcello Degni, Diego Di Paolo e Andrea Cecilia le loro scelte nulla hanno a che fare con l'attività amministrativa e non c'è nessuna diversità di opinioni tra loro e il sindaco alla base delle loro scelte ma sono dinamiche soprattutto di carattere personale che quando si amministra una città come la nostra possono capitare perché appunto lo ripeto insomma quando è difficile coniugare l'attività amministrativa con la propria attività professionale è evidente che si scelga la seconda C'è chi ha detto però che in realtà sarebbe stato imbarazzante per lo stesso Di Paolo per la stessa giunta per lei sindaco che Di Paolo si fosse presentato poi al prossimo particolarmente atteso consiglio comunale di lunedì 22 dicembre non è così? Al prossimo consiglio comunale non c'è nulla di particolarmente legato alla sua delega quindi lui ha giustamente comunicato per tempo queste sue intenzioni ha anche detto che deve concludere le procedure per alcune iniziative appena saranno concluse rimetterà il mandato ha preso l'impegno e ha indicato questa data del 31 dicembre 2014 però appunto come ho detto prima l'importante è cercare di fare le cose Diego è uno di quelli che ha fatto molte cose in questi due anni e mezzo le ha continuate a fare seppur temporaneamente lontano dalla città perché poi quello che conta sono i provvedimenti che si approvano e non le presenze in giunta perché si può essere sempre presenti ma non approvare nulla della propria delega e invece come ha fatto Diego magari essere meno presente di altri ma far approvare dalla giunta tanti provvedimenti che l'hanno riguardato proprio ieri in giunta abbiamo approvato il programma per la nuova edizione del premio elettorale città di Riedi quindi segno evidente che comunque Diego ha continuato a lavorare lacrimente per il comune di Riedi anche in questi mesi Vorrete quindi continuare a beneficiare delle sue competenze della sua professionalità come lei aveva detto attraverso un contratto di consulenza oppure no? Adesso troveremo le strade, le forme migliori per farlo però è chiaro che la sua competenza, la sua esperienza soprattutto nell'ambito turistico e nello specifico nell'ambito dei cammini spirituali e della promozione del cammino di Francesco non la vogliamo perdere e quindi sempre compatibilmente ai suoi impegni professionali vogliamo mantenere un rapporto non solo di stima e collaborazione reciproca ma anche di collaborazione per cercare di valorizzare le cose che sono state fatte in questi due anni e mezzo poi la formula si troverà però Diego ha mantenuto la disponibilità ad aiutarci soprattutto negli ambiti più legati alla sua competenza professionale Bene, so che c'era Francesco Annibaldi che ci teneva a intervenire quindi a porre una domanda Buonasera a tutti Signor Sindaco la mia domanda... Forse è opportuno che ti prenda il microfono Allora signor Sindaco la mia domanda sarà molto breve verterà anche in merito alla cultura di cui abbiamo parlato fino adesso ritengo che diverse sono state le iniziative portate avanti insomma dalla sua giunta e molte che la sua giunta ha accolto e portata avanti dall'amministrazione precedente E' indubbio che in merito alla cultura comunque la domanda dei cittadini è sempre maggiore dell'offerta perché anche stando alla fame di sapere e conoscere che non viene mai saziata La situazione economica sappiamo tutti quella che è purtroppo i singoli comuni e le singole amministrazioni locali vivono in questo momento con patto di stabilità patto territoriale eccetera eccetera è una situazione difficile Quali sono i programmi che nell'immediato presente e nel futuro la sua amministrazione vorrà portare avanti nel discorso culturale e poi lei ha citato il cammino di Francesco un volano turistico decisamente importante per la nostra città e anche per la nostra provincia La prima considerazione è che non sempre la domanda di cultura è più alta dell'offerta perché poi bisogna anche essere consapevoli che bisogna veicolare bene le politiche culturali e costruire gli strumenti adatti per comunicare con i cittadini e permettere loro anche un accrescimento collettivo della comunità Noi siamo molto contenti io sono molto contento del lavoro che è stato fatto in questi due anni e mezzo perché sono state fatte tantissime cose il rilancio della stagione teatrale abbiamo avuto secondo me la fortuna di incontrare anche i favori della Regione Lazio che ha sposato in pieno i nostri progetti e quindi adesso insieme alla stagione teatrale classica abbiamo una stagione musicale e una stagione di teatro off ossia di teatro indipendente e sperimentale che ci permette di dire che Rieti è secondo me la prima piazza culturale della Regione Lazio dopo Roma questo anche perché insomma la Regione Lazio ha inteso investire su questo territorio in maniera abbastanza convinta tant'è che insomma sono due anni che il festival estivo della Regione Lazio si fa proprio a Rieti a Rieti invasioni creative che dopo l'esperienza di Rieti è diventato regione invasioni creative perché poi si sono fatte cose simili negli altri capoluoghi di provincia della Regione Lazio quindi insomma una politica che ci ha permesso di superare i confini tradizionali secondo me ha pagato positivamente la scelta di unire la cultura e il turismo perché io credo che la cultura sia non solo un'occasione di sviluppo economico ma sia anche un'occasione di promozione del territorio e questo lo sappiamo bene perché ospitiamo grandi eventi che portano in città turisti e che quindi ci permettono di far conoscere la nostra città al di fuori dei confini locali penso appunto al RIC Festival penso al Rieti Danza Festival penso al Reate Festival penso alla rassegna legata al libro e quindi al premio letterario Città di Rieti proprio appunto nella giunta di ieri oltre a questo abbiamo anche approvato un provvedimento che ci permette in qualche modo di utilizzare il teatro e metterlo anche a disposizione laddove ci sono iniziative benefiche di promozione delle realtà locali noi insieme alla provincia di Rieti questo sabato il 20 dicembre faremo un concerto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di difendere in questo territorio il Conservatorio di Santa Cecilia di Villa Battistini che rischia di morire e che invece noi vogliamo in qualche modo far sopravvivere se possibile potenziare questo per dire che insomma sono tante le cose che abbiamo fatto tu hai ricordato giustamente il Cammino di Francesco il Cammino di Francesco è secondo noi un grande volano e una grande potenzialità che dobbiamo saper sfruttare negli ultimi anni c'è stato un aumento delle presenze sul Cammino perché noi stimiamo almeno 10.000 presenze l'anno sul Cammino di Francesco dobbiamo fare in modo che queste presenze abbiano anche in Rieti una tappa fondamentale quindi dobbiamo fare in modo che i pellegrini arrivino anche in Rieti e se possibile si fermino a dormire qualche giorno abbiamo costruito una partnership della quale siamo onorati con il Cammino di Santiago e quindi c'è un protocollo d'intesa che ci ha permesso non solo di scambiare le rispettive mostre come è successo a settembre ma ci permette anche in qualche modo di mutuare le buone pratiche che hanno fatto diventare il Cammino di Santiago il primo cammino spirituale del mondo quindi tante cose dobbiamo molto di questo all'impegno di Diego la sua competenza e anche la sua voglia di fare ha avuto la capacità anche di riorganizzare la scena culturale della città perché abbiamo costruito grandi e tante collaborazioni con i protagonisti della scena culturale abbiamo contribuito alla nascita della Rieti Film Commission che è uno strumento che già sta permettendo alla città di ospitare produzioni cinematografiche e sarà ancora di più così in futuro Diego ha avuto secondo me l'intuizione di costituire questo network dei reatini che lavorano e vivono all'estero che si chiama Eurieti che coinvolge centinaia di ragazzi che per scelta o per necessità si trovano a vivere e a lavorare all'estero e che però mantengono un legame con la città grazie a questo network Eurieti siamo riusciti a coinvolgere dei reatini che vivono negli Stati Uniti d'America che hanno contribuito alla realizzazione del video che porterà Rieti all'Expo del 2015 che verrà presentato nei prossimi giorni quindi questo per dire che la cultura non è solamente accrescimento personale oppure di una piccola cerchia della comunità deve anche essere veicolo per far conoscere Rieti al di fuori dei confini locali e deve essere anche un motore per rivitalizzare questa città ci sono davvero decine e decine di appuntamenti culturali durante l'anno ci sono l'estate veramente Rieti e piena di incontri, di iniziative pubbliche legate alla cultura io credo che insomma questo lo dobbiamo a chi in questi due anni e mezzo ha lavorato sodo per fare in modo che questa città possa davvero in qualche modo potesse esprimere tutte le sue potenzialità noi crediamo molto nella cultura come veicolo di rilancio dell'economia ma anche come veicolo di promozione del territorio e per questo abbiamo voluto unire queste due deleghe che secondo me riteniamo che io ritengo molto importanti turismo, cultura e promozione del territorio e penso che Diego sia stato il migliore esempio di come si coniugano bene questi due settori Bene, grazie Sineco Fulvio so che volevi intervenire anche tu Sì, dunque siamo arrivati alla metà del mandato amministrativo siamo al giro di Boa da quando questo giovanissimo esponente dell'opposizione si è trovato catapultato attraverso una serie diciamo di vicende politiche alla carica di primo cittadino e qui ecco mi piaceva un attimo cogliere un po' come hai vissuto quella fase e quando hai capito che poteva essere la tua stagione cioè che poteva essere il tuo momento che tu potevi diventare il primo cittadino di Rieti in passato l'avevi mai pensato? Ma sinceramente insomma non lo so tre anni fa tre anni e mezzo fa non avrei mai pensato di diventare il sindaco della città anche perché c'era insomma non solo da continuare le battaglie di opposizione che ho portato avanti per dieci anni ma c'era anche la necessità insomma di contribuire soprattutto al fatto che il centrosinistra potesse vincere le elezioni perché insomma il centrosinistra non ha mai vinto le elezioni da quando c'è l'elezione diretta del sindaco ci sono stati quattro mandati di amministrazione di centrodestra quindi insomma già sarebbe stato un grande risultato contribuire da semplice consigliere alla vittoria del centrosinistra alle elezioni una serie di circostanze come hai detto tu in primis le primarie che hanno permesso ai cittadini e agli elettori centrosinistra di scegliere mi ha dato questa grande opportunità questi due anni e mezzo sono stati due anni e mezzo durissimi io insomma il primo giorno che sono entrato in comune da sindaco è come se fosse entrato davvero in una centrifuga perché dalla quale ancora non riesco a uscire perché davvero le emergenze sono quotidiane i problemi sono tantissimi ogni giorno succede qualcosa che ti costringe non solo a lavorare fino alle 10 di sera ma comunque ti costringe a pensare tutti i minuti della tua giornata all'amministrazione perché veramente fare il sindaco in questo momento credo che sia davvero una iattura perché ci sono solo gli aspetti negativi insomma quindi vivere in un momento come il nostro da cittadini è difficile ancora di più da amministratori quando c'è una responsabilità pubblica da portare avanti un'esperienza dal punto di vista personale sicuramente molto molto formativa io sono convinto che ci sia tantissimo da fare non solo in questa città ma in tutto il paese per cercare di rilanciarlo questo paese così malandato e sotto certi punti di vista anche sfortunato in gran parte ancora siamo un po' vittime del passato non solo qui a Riedi ma più in generale in tutto il paese è di oggi l'iniziativa dei sindacati del pubblico impiego di occupare tutte le province d'Italia contro un provvedimento governativo che rischia di mettere in mobilità il 50% dei dipendenti delle province segno evidente che davvero è finita un'epoca e entriamo in una fase nella quale bisognerà fare tutti i sacrifici rimboccarsi le maniche per cercare in qualche modo di redistribuire gli impegni di redistribuire i sacrifici per evitare che siano sempre i soldi a pagare quindi l'impegno l'ho portato avanti con grande dedizione e lo farò fino alla fine del mandato nella convinzione che abbiamo iniziato un percorso di risanamento sotto tanti punti di vista non solo dal punto di vista finanziario c'è bisogno però come in ogni impresa perché di impresa trattasi di una grande alleanza e di una grande osmosi fra gli amministratori e i cittadini nessun processo di trasformazione è possibile se non c'è una grande alleanza anche una fiducia reciproca fra gli amministratori e gli amministratori deve esserci anche in seno alla maggioranza ultimamente il PD attraverso il segretario provinciale Ventura si è mostrato poco come dire un po' troppo polemico nei suoi confronti seguito anche ultimamente dall'intervento dei consiglieri del consigliere Maffei Pompei che criticano un po' la giunta per una sorta di immobilismo delle scelte non fatte dei problemi irrisolti sui quali è importante agire per arrivare ad una conclusione positiva io penso che una coalizione non è una caserma quindi è giusto che ognuno esprima la sua posizione legittimamente io sono convinto che le parole del segretario provinciale non siano le parole di tutto il partito anzi gran parte del partito mi ha testimoniato solidarietà proprio in conseguenza di queste dichiarazioni a mio modo di vedere particolarmente improvvide soprattutto perché sono arrivate in un giorno nel quale c'era da festeggiare un risultato storico raggiunto dalla città e soprattutto dal centro-sinistra la guida della città di Lide della provincia e della regione Lazio abbiamo strappato un accordo di programma secondo me molto importante che rappresenta una grande opportunità per questo territorio con regione Lazio e il ministero dello sviluppo economico che ci permetterà di avere 16 milioni di euro da utilizzare per finanziare gli investimenti delle nostre imprese quindi insomma è stato scelto giorno peggiore non si poteva scegliere quindi in qualche modo dichiarazioni come si spiega queste dichiarazioni? credo che siano le legittime dichiarazioni di un segretario provinciale che cerca di stimolare un'amministrazione nella realizzazione dei propri obiettivi di programma quindi tutti siamo convinti che ci sono molte cose da migliorare tutti siamo convinti che i problemi sono tanti però c'è bisogno come dire della solidarietà di gruppo del gioco di squadra che non ci deve stare solo dentro l'amministrazione ma anche dentro i partiti della coalizione per cercare di superare questi problemi andare avanti e soprattutto insomma raggiungere i traguardi e gli obiettivi che ci siamo posti nel nostro bilancio di mandato quando abbiamo fatto il programma politico amministrativo credo che insomma ripeto insomma la politica la polemica è un po' il sale della politica quindi sarebbe anche difficile pensare a una politica senza le polemiche senza le diversità di opinioni la polemica ce la si aspetta più da parte dell'opposizione che non soprattutto in questo modo poi così plateale ma voi siete operatori della stampa è sufficiente leggere qualsiasi giornale di qualsiasi città d'Italia o leggere quello che succede al governo dove un grande partito come il PD rappresenta sostanzialmente tutte le posizioni attualmente in campo nel Parlamento per rendersi conto che diciamo non ci sono più le collocazioni di un tempo e la politica è molto più fluida di un tempo quindi è anche come dire comprensibile che anche all'interno della stessa maggioranza ci siano diversità di vedute che però non mettono in discussione la tenuta della stessa e non mettono in discussione l'impegno di tutto il centro-sinistra a portare avanti insomma il governo della città però di solito insomma i panni sporchi è meglio lavarli in casa no? ma non è detto perché poi ognuno esprime credo che chi ha pensato di rilasciare queste dichiarazioni probabilmente ha ritenuto di fare la cosa giusta io credo che abbia sbagliato però poi sono i cittadini che giudicano certamente è una sola piccola battuta quindi si abbiamo parlato di alcuni problemi che ci sono sono evidenti che ovviamente complicano il percorso amministrativo se avesse il potere con la bacchetta magica di eliminarne uno quale eliminerebbe? ma in realtà i problemi che complicano l'attività amministrativa sono i problemi che hanno tutte le amministrazioni in questo momento il problema è la disoccupazione e la crisi economica perché quando i cittadini non hanno un posto di lavoro lo perdono oppure il loro reddito familiare viene dimezzato in seguito appunto ai problemi che ben conosciamo di carattere economico tutto diventa più difficile e quindi anche la buona amministrazione rischia di passare in secondo piano perché quando hai difficoltà a mettere insieme il pranzo e la cena purtroppo tutto diventa negativo i sindaci non hanno strumenti per contrastare questa crisi economica così profonda abbiamo a malapena gli strumenti per tenere in piedi l'amministrazione e continuare a erogare servizi di qualità ai nostri cittadini però il tema vero in questo paese è il tema del lavoro il tema dell'economia e su questo insomma ho la sensazione che se non c'è uno scatto di rieni da parte del Parlamento e del Governo purtroppo la situazione rischia di peggiorare c'era qualche altro collega che voleva intervenire o tra i presenti Crescenzio Bastioni del CER prego si può avvicinare in maniera tale da utilizzare il microfono no non si sente buonasera a tutti i presenti sì avevo da porre una domanda al sindaco visto le note e difficoltà insomma sono state espresse anche qualche attimo fa dal sindaco il pensare di usufruire e sfruttare meglio il mondo della cittadinanza attiva del volontariato negli ambiti in cui il comune ha più difficoltà sociale ma anche un discorso anche di sicurezza di protezione civile e quant'altro mi ha colpito prima quella bella frase di mutuare le buone pratiche lo si è fatto nel turismo con qualche risultato di buon livello perché non farlo anche in altri settori dove ci sono le lacune più grandi io noto grandi difficoltà da parte di questa amministrazione come della precedente e del resto di riuscire a mettere insieme le anime di quelle che sono il sociale la cittadinanza attiva e il volontariato negli ambiti di quelle che sono le necessità primarie che questa amministrazione deve affrontare insomma non abbiamo i soldi però possiamo anche attingere in quello che può essere il bacino della cittadinanza attiva della buona volontà delle persone e ci sono delle nicchie di specializzazione elevate in questo campo sicuramente il richiamo all'impegno dei cittadini e quindi al contributo dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica è una cosa che condividiamo e che stiamo cercando di praticare almeno in alcuni settori noi quando ci siamo insediati abbiamo detto la nostra attività amministrativa si informerà sostanzialmente di tre principi legalità trasparenza e partecipazione su questo ultimo aspetto che tu richiami noi abbiamo e stiamo tentando un esperimento che inizia a produrre i primi effetti benefici che è quello dell'istituzione delle consulte cittadine che sono luoghi nei quali non solo si discutono i temi che sono oggetto delle politiche amministrative del comune ma si propongono anche delle soluzioni e in qualche modo anche delle soluzioni che partano dal contributo dell'associazione di volontariato dei cittadini dei gruppi anche di affinità di cittadini che si mettono a disposizione dell'amministrazione questo è un tema ricorrente non solo in questa città ma anche altrove quello che noi dobbiamo cercare di fare è regolamentare le opportunità che i cittadini ci possono mettere a disposizione quindi come principio noi condividiamo il fatto che il terzo settore e l'associazione di volontariato possano aiutare non sostituirsi ma aiutare l'attività della pubblica amministrazione però bisogna anche regolamentare e regolarizzare bene questo tipo di contributo l'assessore al decoro urbano e alle manutenzioni ha da poco messo a punto un regolamento sul decoro urbano che ha al suo interno anche una parte che parla proprio di questo cioè di come i cittadini e le associazioni di volontariato e ambientalisti possano contribuire al decoro della città proprio perché vogliamo rendere praticabile questo principio ossia in che modo i cittadini possono aiutare il proprio comune in che modo i cittadini possono aiutare chi amministra la cosa pubblica quindi una proposta che stiamo cercando di portare avanti siamo disponibili insomma a prendere in considerazione proposte nei vari settori che ci competono credo che possa essere una delle strade non solo per come dire superare questo muro che sembra essersi frapposto tra i cittadini e gli amministratori ma anche un modo per insomma cercare di supplire in parte a quella carenza di fondi strutturale ormai una carenza strutturale che rischia di non permettere al comune di continuare a rogare alcuni servizi quindi mi sembra una cosa assolutamente condivisibile adesso si tratta però di renderlo concreto e praticabile questo contributo dal basso dei cittadini e credo che insomma il contributo è aperto chiediamo a tutti di darci una mano proprio per capire quali possono essere le modalità migliori per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini bene grazie Elisabetta Faraglia brevemente che cosa ne pensa dell'informazione che si fa a Rieti un pensiero in merito vista anche l'occasione ma innanzitutto faccio naturalmente gli auguri di buon compleanno al cartaceo perché voi siete una redazione ormai pluralista proprio anche come gli strumenti di comunicazione utilizzati quindi buon compleanno al cartaceo e anche in bocca al lupo a questa nuova esperienza editoriale su un canale televisivo che da quanto ho capito avrà una programmazione diciamo così avremo occasione di presentare il palinzesto ovviamente 24 ore sicuramente una voce in più un'occasione in più una platea in più per parlare dei problemi della città io credo che insomma lo dico spesso la società è lo specchio della politica e viceversa in qualche modo anche l'informazione di Rieti è un po' lo specchio di questa città credo che ci sia bisogno di costruire più occasioni nelle quali gli operatori dell'informazione possano esprimersi e quindi in qualche modo dare ai cittadini strumenti per leggere meglio la realtà perché poi il giornalista l'operatore dell'informazione è uno strumento per i cittadini per cercare di capire meglio quello che succede intorno a loro e quindi per capire meglio le vicende della città in questo caso e più in generale della società è chiaro che insomma dobbiamo anche in questo ambito fare dei passi in avanti ci sono state esperienze in passato che purtroppo hanno avuto esiti negativi io credo che bisogna insomma non fare il passo più lungo della propria gamba bisogna coinvolgere i giovani operatori dell'informazione bravi che ci sono in questa città e fare in modo che insomma i cittadini abbiano più strumenti per leggere la realtà quindi il cartaceo le televisioni le web radio Fulvio che gira per la città insieme ai suoi collaboratori in qualche modo è l'occhio anche spesso qualche volta indiscreto dei cittadini perché poi sta dovunque e quindi permette ai cittadini di cogliere tutti gli aspetti della vita della comunità quindi insomma tutti dobbiamo cercare di fare un passo in avanti e un salto di qualità per far fare un salto di qualità alla città l'informazione gli amministratori e anche i cittadini che magari dovrebbero avere come dire un po' più di amore per la propria terra perché è una delle cose che spesso ci dicono quelli che vengono a Riedi e rimangono sorpresi della bellezza della città però poi vedono l'altra faccia della medaglia dopo un po' si rendono conto che forse i primi a non amarla a dovere sono proprio i reatini e questo penso che sia uno dei diciamo così forse il tallone d'Achille principale di questa realtà locale che non è mai riuscita a spiccare il volo quindi ci vuole anche un po' più di amor proprio e un maggiore senso di appartenenza alla comunità che troppo spesso i reatini rischiano di perdere Sindaco solo una piccola battuta accennato al web qual è il rapporto di Simone Perrangio e di Sindaco Rieri con il web in termini di diciamo che la mia campagna elettorale è stata in gran parte veicolata attraverso il web e la rete perché penso che sia uno strumento di comunicazione che veramente senza filtro e che quindi raggiunge tutti senza censura e senza filtro poi è evidente che c'è anche qui l'altra faccia della medaglia perché poi utilizzare in maniera deteriore questi strumenti rischia di far diventare tutti giornalisti oppure tutti si sentono in dovere di esprimere e questo rischia di essere l'altra faccia della medaglia perché poi ogni strumento può essere positivo in sé bisogna vedere poi come lo si utilizza questo vale come principe generale quindi lo ritengo lo strumento principale si dice che anche se nel nostro paese siamo ancora al 50% per l'utilizzo del web siamo un po' indietro si dice che insomma quello che si pensa che nei prossimi anni sarà l'unico veicolo di comunicazione io penso che sia giusto renderlo qualitativamente appetibile ci sono esperienze anche locali che lo fanno perché penso che sia insomma sarà il luogo principale dell'informazione e quindi è bene curarlo è bene che quelli che si occupano di stampa di carta stampata di bucchetti di televisione abbiano anche un occhio per la rete perché poi è veramente un veicolo prezioso certamente cambiamo decisamente argomento per quanto riguarda l'ex money questa nuova gestione ricordiamo che dal primo dicembre la gestione è diventata privata come sta andando perché in redazione ci arrivano diverse segnalazioni insomma dove questi anziani questi vecchietti non sono proprio completamente soddisfatti cibi contestati ma non solo ma in realtà ogni volta che si cambia c'è una reazione e c'è resistenza qualsiasi fenomeno di cambiamento porta con sé una reazione e un irrigidimento è automatico in qualsiasi ambito lì abbiamo fatto un'operazione per tenere in piedi la struttura quindi credo che insomma al netto delle valutazioni di ognuno sulla qualità del servizio che secondo me è comunque più alta di altre realtà presenti sul territorio insomma questa è un'operazione che ci ha permesso di salvare la struttura di salvare i livelli occupazionali e quindi di salvare anche un servizio prezioso ai nostri concittadini che lì sono ricoverati noi siamo entrati e il differenziale fra entrate e uscite era di 1.200.000 euro per circa 50 utenti quindi insomma noi ogni anziano che stava lì ci costava circa 3.000 euro al mese un costo assolutamente insostenibile assolutamente fuori mercato abbiamo lavorato per diminuire il differenziale fra l'entrata e le uscite l'abbiamo fatto in maniera significativa nei primi anni il piano di rientro al quale che siamo chiamati a rispettare per appunto rientrare dai debiti pregressi ci imponeva di dimezzare il nostro impegno finanziario per quella struttura con questa operazione di sostanziale convenzionamento quindi una gestione privata della cooperativa convenzionata dal Comune di Rieri ci permette di raggiungere questi obiettivi è evidente che ognuno dovrà fare la sua parte il Comune continuando a investire risorse importanti nella struttura i lavoratori magari facendo qualche ora in meno ma garantendo il posto di lavoro a tutti e anche agli utenti gli è chiesto magari di mettere 100 euro in più sulla retta perché poi bisogna che ognuno sia consapevole del fatto che se c'è una situazione di difficoltà tutti ce ne dobbiamo far carico io nello specifico naturalmente non conosco il menu e non conosco quale può essere la qualità del servizio nello specifico so però che insomma quella è una struttura storicamente di qualità abbiamo lavorato perché la qualità rimanesse alterata però è chiaro che insomma può sempre succedere che ci sia bisogno di un po' di tempo di assestamento sicuramente ci sarà un impegno per le famiglie leggermente maggiore però penso che sia anche giusto perché insomma la media delle tariffe di questa struttura è intorno ai 1200 euro mese noi abbiamo detto chi non ci arriva il comune è integra però chi ha i soldi e chi vive in una famiglia dove ci sono risorse è bene che contribuisca perché se chi ha non contribuisce noi non possiamo permettere a chi non può permetterselo di stare in quella struttura quindi ci vuole pure un po' di solidarietà fra gli stessi utenti che stanno nella struttura e soprattutto le famiglie di questi utenti come mai una convenzione provvisoria prima ancora del bando di gara? eh sì questa è una cosa prevista dalla normativa facciamo una convenzione perché in determinate circostanze è possibile in vista di un bando di gara che ci permetterà di convenzionare o quella o altre strutture che hanno determinate caratteristiche presenti sul territorio quindi insomma per il momento l'operazione è riuscita perché appunto questi tre interessi che avevamo mantenimento della quota del servizio mantenimento diciamo così della struttura e garanzia dei livelli occupazionali sono tre cose che insomma siamo riusciti a tenere insieme con questa nuova forma di gestione alcuni dipendenti della cucina però mi pare siano stati tolti i dipendenti del Manni sono tutti dipendenti della cooperativa Quadrifoglio la mensa da quasi un anno è gestita da la società Elior che è quella che ha vinto il bando per la riflessione scolastica e quindi all'interno della cucina del Manni lavorano i dipendenti della società che si occupa della riflessione scolastica della città c'è anche un ex sindaco vedo presente in platea ex assessore Saletti voleva aveva piacere all'intervenire come erano i tempi tuoi? i tempi miei erano tempi diversi quindi per fortuna non ci stava tutto il discorso della rete perché io ritengo il discorso della rete estremamente pericoloso se non è gestito bene diventa una cassa di risonanza per frustrati incompetenti ignoranti e via dicendo quindi mi auguro che quella tua considerazione di fare in modo che sia gestita in maniera intelligente vada in porto perché effettivamente è un po' quando io vedo che secondo alcune posizioni tutti dovrebbero essere in grado di avere internet tutti dovrebbero essere in grado di collegarsi con il comune poi magari la gran parte dei cittadini non è in grado di fare questo e perde dei colpi e deve andare a fare riferimento ai commercialisti o classico tipo quello delle tasse e roba varia ai miei tempi era 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 diverso perché innanzitutto c'era un rapporto molto più efficace tra maggioranza e opposizione mentre invece mi sembra che in questa occasione l'amico Simone vada un po' in carrozza perché l'opposizione al comune di Tieti mi sembra molto evanescente e potrebbe essere fatta da chi invece ha gestito negli ultimi anni la cosa pubblica e che viene messa sotto schiaffo tutti i giorni senza avere la forza la voglia non lo so che cosa il coraggio di precisare quali sono le posizioni giuste dell'attuale maggioranza e quali invece sono posizioni non giuste io non intendo rubare nessuno spazio perché stavo qui perché avevo l'occasione della mostra di mia moglie quindi potrei aprire tutto un discorso sul Manni non lo voglio fare non è questa la sede è la celebrazione di una testata che sta diventando una testata ormai come punto di riferimento della città perché anche da questo punto di vista dell'informazione non c'è alcun dubbio che la città di ieri soffre di questa carenza di informazione critica che non vuol dire di opposizione ma che vuol dire il tentativo di illuminare i cittadini da un versante e dall'altro quindi io sono qui per questa celebrazione per la celebrazione di moglie per dare il mio appoggio sostanzioso dal punto di vista del lettore a questa rivista che effettivamente era partita tra molte incertezze e anche tra molti sospetti da parte dei cittadini ma io la compro tutte le volte che esce e invece vedo che i numeri aumentano le adesioni aumentano e la soddisfazione del cittadino va avanti e quindi per esempio questo è uno strumento che cambia le cose nei confronti dei miei tempi ai miei tempi c'erano due giornali reatini uno molto ammanigliato alla maggioranza l'altro insomma vabbè è così incerto adesso invece ci sono questi strumenti per cui il cittadino quell'appello che faceva il sindaco che io non posso non condividere cioè che ci debba essere una maggiore partecipazione del cittadino va sostenuto con questi strumenti perché altrimenti il cittadino poi è isolato è in una fase di sfiducia perché non c'è alcun dubbio che adesso il cittadino è attraversato da due fenomeni il disgusto e poi la rabbia stiamo ancora nella fase del disgusto credo che molto spesso arriveremo nella fase della rabbia non tanto in sede locale ma sommando le difficoltà locali con quelle regionali e nazionali e credo che si prospetti non lo dico con i miei capelli bianchi dei tempi molto poco rosei per il cittadino stesso e quindi per il nostro paese e se da questo punto di vista l'amministrazione comunale al di là della differenziazione di carattere ideologico riesce a dare delle risposte ai cittadini io non posso che essere contento come cittadino in verità ne vedo poche di queste risposte per esempio il settore dell'urbanistica sindaco bisogna che ci metti mano perché ormai la storia dei debiti pregressi sono veri non in quella dimensione ma l'urbanistica non ha incassato un euro in questi due anni e mezzo la storia della lotta all'evasione fiscale che potenzia poi le entrate e la vedo poco efficace eppure da una parte ci sono stati anche interventi di tassazione consistenti che vi hanno consentito cosa che noi non avevamo di avere molti afflussi economici all'interno delle casse del comune quindi si tratta di fare una scelta di priorità di precedenze di scelte politiche che mi sembra al di là però del sindaco che si agita in senso positivo per affrontare questi problemi la qualità generale e quindi ecco un confronto con la mia giunta la mia giunta l'ha fatta di persone molto spesso più bravi di me e non era un fesso insomma io ho fatto il sindaco la stessa età tua insomma c'era una classe dirigente che non c'ha paragoni con quella attuale e quindi io non ti invito da questo punto di vista e addirittura la perdita dell'assessore di Paolo secondo me rappresenta una perdita notevole dal punto di vista della qualità e della qualificazione della giunta e quindi faccio appello perché nella scelta del successore non prevalgano gli elementi soltanto dell'appartenenza ai partiti ma ci sia una ripresa dell'andare incontro all'esigenza di professionalità che in questa città manca lo dico con estrema tranquillità perché mi sembra che è il livello anche il livello dei consiglieri comunali è diverso per esempio dai consiglieri comunali anche delle ultime esperienze mie cioè quando mi capita a me di accendere la televisione e vedere i dibattiti in consiglio comunale insomma qualche preoccupazione istituzionale ce l'ho ma me la tengo per me perché posso soltanto fare gli auguri al sindaco perché metto a posto anche questo aspetto della vita cittadina grazie grazie a Teresa Retti allora siamo addirittura ad arrivo di questo incontro pieno clima natalizio domani appuntamento inaugurazione di MACO e anche un'altra battuta come si sta organizzando il comune di Rieti per queste festività cosa ci offrirete feste di capodanno e quant'altro ma sì innanzitutto colgo l'occasione per invitare tutti domani soprattutto voi operatori dell'informazione all'inaugurazione del mercato agricolo a chilometri zero a Via Micioccoli che è un'iniziativa che abbiamo portato avanti insieme alla quinta comunità montana alla provincia all'Arsia e alla regione Lazio ed è un progetto a cui teniamo tantissimo stava dentro il programma politico elettorale la realizzazione di un farmer's market nella città di Rieti dove i cittadini possano acquistare direttamente dai produttori e dagli agricoltori i prodotti agricoli quindi un'iniziativa che secondo me raccoglierà un grandissimo successo abbiamo deciso di localizzare questo mercato in un quartiere molto popolare molto popoloso della città domani inaugureremo il mercato agricolo e inaugureremo anche il mercatino di Natale che se non sbaglio fino al 6 al 7 gennaio si realizzerà proprio nell'area del mercato feste di Natale noi insieme all'ASCOM insieme all'Associazione Culturale Vertigo e più in generale agli esercenti del Centro Storico abbiamo organizzato una serie di iniziative nel periodo appunto natalizio stiamo organizzando la festa di Capodanno che si concluderà con un grande concerto in Piazza Vittorio Emanuele II quindi nonostante le mille difficoltà ben note a tutti anche quest'anno feste natalizie e di fine anno che possono permettere ai tanti ratini che torneranno a Rieti magari perché lavorano vivono fuori di vivere una permanenza gioiosa e spensierata bene nel segno di quella città che vuole essere la città dei bambini una proposta del Comune di Rieti che guarda con attenzione al monto dell'infanzia e con quale progettualità Sindaco? Beh innanzitutto continuiamo nell'iniziativa di Rieti città amica dei bambini abbiamo fatto un consiglio comunale in occasione della giornata mondiale dell'infanzia e dei diritti dell'infanzia dove abbiamo approvato dei regolamenti che in qualche modo vanno proprio nella direzione di far diventare questa città una città maggiormente a misura di bambino avremo nel 2015 la terza edizione di Rieti della settimana Rieti città amica dei bambini vogliamo modificare le politiche amministrative per renderle più adeguate alle esigenze dei nostri concittadini più piccoli perché crediamo che una città a misura di bambino sia una città più vivibile e migliore per tutti quindi questo è un impegno che continua grazie al contributo dell'assessore alle politiche sociali grazie al contributo di un consiglio comunale che all'unanimità ha approvato proposte che ci permettono insomma di migliorare questa città noi abbiamo ricevuto l'anno scorso l'onoreficenza dall'unice chef di città amica dei bambini abbiamo deciso di istituire la figura del garante comunale per i diritti dell'infanzia quindi continua questo percorso che insomma ogni anno ci fa fare un passo in avanti ci piace concludere Elisa anche nel segno di un ponte ideale con le città gemellate che recentemente ci sono state delle belle diciamo situazioni e con in modo particolare legate a Nordhorn ma le città gemellate sono più di una non solo ecco ci piacerebbe che il Natale fosse un po' il segnale un po' di una condivisione progettuale e di uno scambio più importante e più significativo in quella dimensione glocal che noi auguriamo a Rieti Centro d'Italia si ha detto bene prima ha fatto riferimento al progetto del network dei reatini che vivono nel lavoro all'estero a Rieti un'altra cosa sulla quale noi vogliamo puntare molto in maniera non tradizionale non rituale è questo tema dei gemellaggi perché crediamo possano essere una grande occasione per far uscire anche Rieti da un provincialismo che è gran parte delle cause dei problemi della città aprire la città al mondo e utilizzare le nostre città gemellate come veicolo per emanciparci anche dal punto di vista culturale noi abbiamo tre gemellaggi l'anno prossimo nel 2015 sono 30 anni del gemellaggio con Ito e quindi ci sarà una grande festa alla quale parteciperò e quindi su invito personale del sindaco di Ito Ito è una città molto importante del Giappone una città turistica una città termale e quindi insomma siamo contenti perché è un gemellaggio molto solito il primo gemellaggio che è stato fatto e che insomma ci vede davvero coinvolti in tantissime iniziative grazie all'associazione del comitato festeggiamenti festa del sole nel 2015 ci sarà una mostra di pittura che coinvolgerà tutte le città italiane gemellate con altre città giapponesi come noi quindi questo è il gemellaggio più antico e in qualche modo più solito poi gli altri due gemellaggi in Europa San Berlus e il Beff io ho visitato la cittadina della bassa Normandia qualche mese fa anche lì grande insomma consonanza e soprattutto voglia di portare avanti i progetti insieme e poi il gemellaggio con Norden che è più recente è entrato nel 2010 lì le cose insomma iniziano a diventare davvero seri ci sono stati diverse iniziative insieme con le scuole con il mondo dello sport ma soprattutto dal punto di vista economico io sono stato a Norden pochi giorni fa per inaugurare un negozio di un nostro concittadino di Casette Mastro Iaco che ha aperto un locale destinato alla vendita e alla degustazione esclusivamente di prodotti del nostro territorio questo è un risultato straordinario perché se noi riuscissimo insomma a esportare i nostri prodotti e magari far aprire ai nostri concittadini dei negozi in giro per l'Europa sarebbe un risultato straordinario con Norden ci sono molte cose in piedi stiamo progettando insieme un progetto per ottenere dei finanziamenti europei il progetto è un ponte per l'Europa e quindi l'idea è quella di costruire un ponte nel nostro caso sul fiume del Lino un ponte pedonale e nel caso di Norden un ponte su un fiume importante che passa in mezzo alla città di Norden proprio per utilizzare i fondi europei quindi i tedeschi che sono molto più esperti attrezzati di noi ci stanno insomma aiutando a organizzare il nostro ufficio Europa quindi questa è una di quelle cose importanti dal punto di vista economico anche lì loro stanno contribuendo all'iniziativa che abbiamo messo in campo per la riqualificazione dell'area dell'ex snia perché loro hanno partecipato alla stesura del bando per il concorso di idee e verranno il 29 gennaio quando faremo una grande manifestazione al teatro che sarà la seconda puntata di quel percorso per la riqualificazione dell'ex snia quindi insomma davvero rapporti diciamo di fraterna amicizia ma anche di grande collaborazione bene allora grazie grazie sindaco per essere state con noi grazie per gli auguri Fulvio un saluto a te grazie con un buon compleanno per cronaca di Rieti e una dedica speciale Titti Saletti mostra i suoi angeli che portino fortuna fino a 7 gennaio qui alla Maison alla Maison 56 in via Roma i suoi angeli che portino fortuna a Rieti centro d'Italia grazie di cuore grazie di nuovo a tutti gli intervenuti ultima battuta vi do appuntamento domani qui sempre alla Maison 57 ore 18 perché presenteremo questo libro Tenacemente Donne un libro a cura di due giornalisti vaticaniste Alessandra Buzzetti del TG5 Cristiana caricato di TV2000 quindi grazie di nuovo per l'attenzione e arrivederci per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione